Buonasera da TG Flash Economia, l'appuntamento per scoprire tutte le principali novità del mercato italiano. Vediamo! Sulle colline che circondano il paese di Scansano, in provincia di Grosseto, si estende la cantina cooperativa Vignaioli del Morellino, che dal 1972 presenta questo vino, principe di quelle zone in diverse tipologie. L'ultimo gioiello della cantina è l'Orroggiano Bio, un rosso biologico che si è giudicato l'etichetta verde della certificazione ambientale, vincendo anche il premio di Lega Ambiente nella categoria Bini Giovani. Una tradizione familiare centenaria e la grande passione per l'Aglianico e la Falanghina sono i valori di Fontana Vecchia, un'azienda che dedica tutto il suo talento alla Falanghina color bianco e all'Aglianico del Taburno. Su questi due vitigni si basa gran parte della sua produzione. Per i rossi, dall'Aglianico del Taburno base fino al grave mora di forte eleganza, e per i bianchi, quattro etichette a partire dallo sfumante fino ad un'esclusiva Falanghina invecchiata di 10 anni, un mercato unico in Campania. Controllare i nei ora si può anche nelle farmacie comunali, grazie ad una tecnica innovativa che sfrutta le potenzialità della teledermatologia. F-Group promuove infatti un progetto di sensibilizzazione e prevenzione del melanoma. L'esame si potrà effettuare in tutte le farmacie aderenti all'iniziativa, con un'apposita macchina fotografica, senza lista d'attesa e con costi contenuti. I risultati arriveranno da centri dermatologici d'eccellenza in circa 48-72 ore. Nelle campagne vicino Udine, precisamente nel borgo medievale di Sterpo, sorge l'omonima azienda agricola Sterpo e proprio nelle acque circostanti del fiume Stella l'azienda alleva circa 15.000 quintali di trote all'anno che verranno trasformate in filetti freschi, panati e altri prodotti freschi e genuini. Nel pieno rispetto della natura le trote crescono in un habitat naturale, conservato in acque fredde con abbondanza di ossigeno, affinché arrivino sulle nostre tavole come appena pescate. Tutta l'artigianalità e la sartorialità delle botteghe napoletane, capi lavorati a mano e realizzati con tessuti pregiati, sono i valori di Luigi Borrelli, un'azienda di generazione nata nei primi anni del 1900. Quest'anno indosseremo molte nuance del colore naturale, il greggio, il panna, per arrivare ad un grigio, ad un marrone o blu, fino ad un colore più scuro, il bordù. La Luigi Borrelli interpreta questa tendenza con una collezione definita New Modern Metropolitano. L'unicità e l'esclusività di gioielli pensati, disegnati e realizzati interamente in Italia. Stiamo parlando di Giampiero Fiorini, che dal 1983 veste la donna con pietre naturali, pezzi unici per cui ognuna di noi possiede un valore aggiunto inconfondibile. Perle, pure o lavorate, dettagli imbrillanti per una femminilità decisa e libera, i toni raffinati del rosa, la forte eleganza del nero, si sposano con oro bianco e giallo, gioielli che difficilmente una donna può ritrovare in un'altra parte del mondo.